Ad ottobre i cittadini saranno impegnati sulle riforme costituzionali e per questo il Movimento 5 Stelle è sceso in campo a sostegno dei comitati per il no e non solo. I pentastellati si concentrano oltre che sulle riforme sociali anche su quelle costituzionali, soffermandosi su due aspetti dell'Italicum. Tutti i dettagli stamani in una conferenza stampa a parlarne il consigliere regionale Antonio Federico. Dobbiamo dare un segnale importante e far capire ai cittadini già dalla campagna di sottoscrizione delle firme che è fondamentale questo referendum perché non è una questione legata al Premier Renzi ma piuttosto alla nostra Costituzione e alla tenuta democratica del nostro Paese perché la Costituzione resta, i governanti cambiano. In questo senso sarà fondamentale anche l'aspetto informativo e comunicativo. Noi come gruppo del Movimento 5 Stelle ci mettiamo a disposizione del comitato del no già costituito nella nostra regione per raccogliere le firme, dare qualsiasi tipo di supporto, mettere a disposizione la nostra rete di attivisti sul territorio al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le firme necessarie per dare sostegno già a quel quinto di rappresentanti della Camera dei Deputati che hanno già fatto la richiesta per il referendum di ottobre. Per quanto riguarda la riforma costituzionale parliamo di quella che è la nuova rivisitazione del Senato della Repubblica che non sarà più eletto dai cittadini ma è eletto dai consigli regionali per la stragrande maggioranza e avrà un ruolo veramente consultivo quindi andrà a essere istituzionalizzato quel concetto di decreto legge con il quale già il governo Renzi ma anche i governi precedenti hanno portato avanti le grandi riforme a botte di fiducia. Questo tipo di approccio verrà istituzionalizzato con la riforma del Senato così come intesa. Per quanto riguarda invece la riforma elettorale vogliamo togliere i capilista bloccati che vengono scelti dai segretari di partito e che praticamente eleggono chi dicono loro all'interno della Camera dei Deputati e il premio di maggioranza così come inteso perché se al primo turno un partito può prendere anche il meno del 20% al secondo turno rischia di avere una maggioranza bulgora non legittimata da un voto vero e reale da parte dei cittadini.